Bene, salve a tutti e bentornati a questa nuova rubrica Matteo Racconta. Allora, oggi vado a parlarvi del mio secondo libro, ed è una raccolta di fiabe, ed è questo qui. Fiabe di una notte di mezza estate. Allora, come ho detto, è un libro sperimentale che ho scritto mentre stavo scrivendo Silva, il libro di cui vi ho parlato la volta scorsa. Come la volta scorsa, anche questa volta, voglio accennarvi vagamente una piccolissima parte del libro. In questo caso, essendo una raccolta di fiabe, non andrò a raccontarvi un capitolo, ma una fiabe vera e propria, la prima. L'altra particolarità di questo libro è il fatto che ho un po' giocato con delle foto e le ho rielaborate in chiave artistica. Per cui è un libro pregevole, secondo me. Anche il testo è stato studiato abbastanza a fondo, infatti forse non si riesce a notare da lì, ma persino il testo è colorato, quindi c'è dietro un gran lavoro fondamentalmente. Il libro è un omaggio, diciamo, tra virgolette al genere di fiabe. E detto questo, io andrai comunque a parlarvi del libro. Andiamo a vedere la prima fiaba. Esisteva un tempo in cui gli uomini non avevano bisogno di faticare per ottenere. In questo tempo, come in ogni tempo, viano esseri, uomini e non, malvagi e oscuri, non perché lo fossero dalla nascita, ma perché glielo era stato imposto con eventi traumatici o meno. Essi pagavano liberi sulla terra. Uno di questi arrivò nella città dei sognatori, che, come ho già detto, avevano la straordinaria capacità di ottenere tutto ciò che desideravano. Si sistemò nella piazza della città, gridando, Venite gente, io vendo le migliori cose che siano mai state vedute su tutta la terra. Io vendo sogni, sogni di cartone. Tutta la città, a sentire questo strano personaggio parlare, si domandò come fossero i sogni di cartone, e si diversero verso di lui. Alla domanda dei cittadini incuriositi, il viandante disse, I sogni di cartone sono le cose che più volete. Loro, ancora più incuriositi, dissero, Come puoi, tu viandante, darci ciò che già possiamo avere? Lui rispose allora, Fidatevi se vi dico che ciò che l'uomo non ha, da sempre desidera. Fu così che, piano piano, i cittadini della città dei sognatori divennero cupi e pigri, e un giorno capirono di aver perso anche la facoltà di sognare. Ma, tra tutti loro, c'era un ragazzo che non aveva creduto alle parole del viandante, e aveva deciso di non smettere di sognare. Lui, insieme agli altri cittadini che avevano creduto al viandante, si diressero verso la casa di quest'ultimo. Una volta arrivati, chiesero di entrare, e furono esauditi. Poi, giunti al cospetto del viandante, videro che aveva ammassato ai suoi piedi migliaia e migliaia di bolle trasparenti. Solo allora capirono che quelle bolle erano i loro sogni. Lui, guardandoli con disprezzo, disse Dunque, vedete, io vi ho donato i sogni di cartone, e ho ricevuto in cambio il vostro dono di desiderare. È stata una vostra scelta, è vostra soltanto. Fu allora che dal gruppo uscì il ragazzo che non aveva creduto alle parole del viandante, e guardò dritto negli occhi dello straniero. In quel momento disse Adesso finirà il tuo dominio. Adesso basta. Con quella frase, il ragazzo sanci la fine del viandante, e della città dei sognatori. Poiché aveva desiderato la fine di tutto, da quel giorno, se un uomo desidera una cosa fatica per ottenerla, in memoria del giorno in cui si fece abbagliare dai sogni di cartone. Bene, spero che questa lettura vi sia piaciuta. Il libro, come ho già detto, è Fiave di una notte di mezza estate. Lo potete trovare su www.ilmio.it, cercando il titolo. Seguite anche la pagina Facebook, che è la Tana dell'Uomo del Tempo. Capirete, dopo aver detto questo libro, perché si chiama in questo modo. Sì, c'è l'Uomo del Tempo in questo libro. Detto questo, se vi è piaciuto il video, mettete un like, o scrivetemi tra i commenti, e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie mille e arrivederci.